Sono stato dimesso dall'ospedale o sono stato in quarantina domiciliare perché risultato positivo al tampone, eppure continuo a sentirmi debole e mi affatico facilmente. Che cosa posso fare? Una domanda che sempre più persone si stanno ponendo, visto che il numero dei guariti da Covid-19 aumenta di giorno in giorno. Ma anche una volta debellato il virus, possono persistere alcuni sintomi quali vertigini, difficoltà nel respiro, instabilità posturale ma anche dolore, ansia o depressione. Per questo un gruppo di medici e fisioterapisti della clinica di neuro-riabilitazione dell'azienda Ospedale Riuniti di Ancona, coordinati da Maria Gabriella Ceravolo, professoressa di medicina fisica e riabilitativa dell'Università Politecnica delle Marche, e da Marianna Capecci, direttrice della scuola di specializzazione della medesima università, hanno promosso un progetto di educazione terapeutica in versione completamente digitale e gratuita dedicato alle persone in convalescenza. Loro troveranno un opuscolo molto colorato, facile anche da leggere, e dei video, dei video esemplificativi di tanti diversi esercizi pensati con livelli di difficoltà crescenti, accompagnati da un programma settimanale specifico in cui si spiega alle persone che tipo di esercizi svolgere all'inizio, come progredire nell'allenamento, il tutto con la finalità di ottenere un progressivo miglioramento delle condizioni di respiro, di forza muscolare, di capacità di svolgere attività fisica e così via. E professoressa, questi protocolli di educazione terapeutica non vanno però a sostituire le prestazioni riabilitative, giusto? Sicuramente, questo deve essere molto chiaro. Le prestazioni riabilitative hanno una finalità completamente diversa e hanno il vantaggio tale per cui c'è un fisioterapista che valuta il paziente e personalizza il programma di esercizi in relazione alle caratteristiche delle persone. Nel nostro progetto, coloro che vorranno seguirlo, troveranno delle indicazioni molto chiare che esplicitano che persone con particolari profili di rischio non devono svolgere esercizi. Siamo molto felici di aver completato il progetto e che ha ricevuto il gradimento dei colleghi fisiatri, tant'è vero che la società italiana di medicina fisica e riabilitativa Simfer ha dato visibilità al progetto sul sito della società.